è un distaccamento molto interessante secondo me non sono così convinto che sarà più competitivo del loro originale ma aprivi tutte queste belle opzioni con la tua fanteria che non sono brutte opzioni perché scout e stealth gratis non è da buttare via proprio per niente diciamo che stealth va a compensare il fatto che tu non possa scegliere il meno uno a essere colpito almeno in tiro che è già qualcosa visto che perdi la seconda malizione diciamo che una volta che hanno introdotto il distaccamento dell'index il cambiamento del riturre da vsbs degli avversari quello è diventato un distaccamento molto forte e quindi questo comunque il mio parere deve essere doveva essere abbastanza sbilanciato per essere all'altezza di quello però anche scout comunque per molti modelli death card può essere molto interessante con l'abilità quindi sicuramente ha il suo da offrire direi di iniziare leggendo un attimo le regole detachment iniziamo dalla regola come detto è molto semplice tutte le fanterie ricevono scout 5 stat direi che le fanterie non in trasporto importante non imbarcate esatto quindi finché non sono imbarcate hanno queste regole qui ovviamente questo lì è che non puoi imbarcare la metà di di leguarine da corpo a corpo dentro un rino esplotare ma una volta che scendi hai comunque lo stelto possiamo alternarci leggere un enhancement a testa se volete va bene dai vado io ok vai vado vado allora drone in chorus per 15 punti per un modello di fanteria della death card da assalto alle armi da tiro equipaggiate dai modelli dell'unità abbastanza semplice non so chi potrebbe beneficiarne penso che con i dash round in realtà avere i flamer avere i flamer a assalto potrebbe non essere per niente male perché un'unità di di dash round piena riesce facilmente penso a ammazzare qualsiasi unità di fanteria non pesante probabilmente se se colpisce bene e quindi anche le pesanti secondo me con una buona situazione puoi fargli molto molto fastidio sì ok stiamo pensando a per pesante stiamo pensando a terminator o o custodes che insomma è possibile che tu non gli faccia tantissimo con tutti i colpi che vuoi a P0 però appunto può essere molto interessante perché puoi fare parecchio male e aggiungere assalto cioè avanzare ti permette di metterti in una posizione un po' migliore rispetto a fare i tuoi miseri 4 pollici movimento standard dell'unità quindi penso che quello sia il suo utilizzo principale secondo me lo vedremo molto più in una squadra con i Plague Marine perché alla fine funziona bene su una piattaforma da tiro cioè i Death Chalks sono carini ma ti sparano non sono così convinto che li usi per avanzando e tenendoli all'aperto per sparare è più facile che è più facile che tu lo faccia con i Plague Marine per andare su un obiettivo possibile possibile alla fine hai più utilizzi assolutamente opzioni sai sì dipende da cosa vuoi farci se tu stai giocando i tuoi 18 Death Chalks probabilmente questo finirà dentro di Death Chalks perché non penso che tu giochi anche mi sa che è la moda del momento questo perché non so quanto ancora durerà questa opzione ma guarda non stanno performando così bene da giustificarne un nerf sono principalmente troppo lenti e quello rimane è difficile da spostare da usare bene il primo enhancement è insectile murmuration ok tu puoi sapere cosa voglia dire in realtà il il mormorio degli insetti no anzi scuola il mormorio da voce di insetto tipo il mormorio insettile sì il mormorio insettile Death Chalks Infantry Model Only ogni volta che il modello bersaglio ogni volta che un modello bersaglia con attacco dentro l'erenzi contagio di una unità Death Guard può ripetere i tiri preferiti fare uno che vuol dire applicarlo sia in tiro che in corpo corpo perché in corpo corpo sei sempre neuro contagio e direi che un menace è comunque costoso per 20 punti però può risultare un sacco utile sì sicuro stavo cercando un attimo i i per quanto forzano e ben o malato di un sacco di magli quindi comunque un sacco di forza 8 nel Death Guard non abbinerò niente di naturale se hanno se ha scelto l'aura del binaggio degli uno preferire chiaramente la sua posizione però vabbè ok i Death Guard hanno forza 8 quindi tutti lo che sappiamo è che hanno forza 8 in mischia con gli armes anti anche questo è veramente interessante tentativamente finirei al 2 più facile per l'unità più grosse quindi è comunque un roll bello forte in tiro vuol dire che cosa? che mi sembra più efficace comunque che giocarlo sui Blight Lords o sui Plague Marine perché non penso che tu possa giustificare cioè non penso che sia altrettanto efficace più che altro come come roll essendo solo degli uno già sì esatto la combo sono 18 dei shroud e tre sacerdoti per dargli meno uno a essere feriti se mi dicono bene e stavo cercando i Blight Lords che anche loro hanno le armi normali mi pare però in corpo a corpo attaccano soltanto penso a forza 5 quindi sono mediocre in quindi non è così non giro molto come questione e dopo ci arriviamo anche ai modificatori che può dare questo attachment prossimo molto semplice prossimo è rejuvenating swarm fanteria modello di fanteria deathguard alla fine di qualsiasi fase o di ogni fase il portatore recupera tutte le ferite perse credo che oltre a un sacerdote spiritario vengi da fare mortali non non so quanto allora sui casi un aspen ha 10 punti che infine avanzano punti secondo me allora io ho una combo buffa in mente vai la giocherai con i tre unità da sei deathguard no? userai lord of contagion dentro le unità no? perché gli fai rollare il tiro massimo una dici solo uno eh sì perché è team di sacerdoti i stregoni sì i stregoni sì ah perché ti danno un extra meno uno in corpo a corpo scusa quando li attacchi this time riduce uno al danno eh sì per questo si è giocato a tre sacerdoti e diciamo terminator sì ti dico sarà così molto più da tappabuchi bene sì perché se ne avevo pensato a questa cosa buffa che lord of contagion ti dice che è il 4 più quando subisce un danno fa le mortali le può continuare a fare non penso valga non penso comunque valga si lo stregone però sarebbe stata molto divertente e l'avversario doveva mettersi a piangere comunque continuando a cercare di ammazzare lord of contagion non ce la stava facendo ma 18 death shroud più i 3 sorcerer sono 870 punti ci sono 1130 punti avanzati più che abbastanza per mettere un portarium un pliplag qualche garretto stupido e via e plague marino sì sì ma i porti custode sono molti in questo momento in corpo a corpo pox walker probabilmente anche perché anche dare i pox walker scout e stealth è comunque una cosa molto fastidiosa l'unità da 20 pox walker con scout e stealth comunque sono lenti però fanno su un obiettivo e dopo dal tiro è lunga tirarli giù quindi assolutamente sì se poi ricarichi matano e ricoprono un fonte direi che siamo all'ultimo enhancement che è plague veil per 25 punti che non sono pochi però l'effetto è di tutto rispetto perché per un modello qualsiasi di fanteria deathguard da impedisce l'unità di essere targettata da attacchi ranged se il modello attaccante è oltre i 18 pollici finché l'unità è sopra almeno l'obiettivo e questo mi sembra forse quello più interessante tra l'appunto discriminante l'obiettivo certo questo sembra fastidiosissimo perché piazzi in unità appunto che siano se vuoi mettere i tuoi terminator su un obiettivo che li rende ancora più fastidiosi a tirare giù perché il tiro lungo agitato non ci arriva che sia ma anche sotto i plague marine se vuoi estendere su un obiettivo e comunque anche loro sono difficili da ammazzare ci sono i suoi utilizzi e mi sembra che io giocherai sempre questo sembra difficile se giochi questo enhancement questo se giochi questo detachment questo enhancement deve essere parato dell'autorista abbastanza sì sto cercando un attimo come custode della Draxus che ha quell'effetto e spesso e volentieri è un effetto che cambia cambia tanto il non poter essere targettato dopo magari per carità forse sui Death Shroud non varrà così tanto la pena perché no no questo è più per unità piccoli e mi omettivo Black marine dietro esatto anche per guardare i boxwalkers se hanno qualcosa che regabile ma solo Typhus quindi povertini sai che non si vede da solo perché già da solo porta sfiga bene passiamo agli stragemi il primo è prossimità nauseante possiamo tradurlo giusto? vabbè i stragemi parossi no parossismo parossismo no 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 parossismo ho letto male e allora quando fai fai scegli un'unità di Death Guard Infantry che sia in engagement range da più di uno nemici e di fare un battle shock almeno uno e onestamente niente esagerato perché non mi pare che abbiano tante combo con la disciplina della Death Guard sarebbe Decker in questo momento ma non è con noi sul drone c'era un'unità di disciplina forse no no la combo era come crawler che fa fare un battle shock in un'ultima fase di tiro quindi faresti fare un battle shock per il nemico ok però dovresti essere in melee con la stessa unità sulla quale hai sparato con il particular scroller è vero non è male però mi sembra che ci siano sinergie migliori l'altro giorno stavi parlando di quelli ne parleremo anche più avanti di quelli degli Dark Angels che sono anche molto interessanti ma questo qua mi sembra che caschi un pochino più sulla fetta meno utilizzabile meno sinergizzabile dell'esercito sì sì esatto secondo me è nel pacchetto qui quello meno interessante anche perché nella fight phase e vuol dire dopo la carica quindi dopo la possibilità di tirare no ma comunque non potete usare l'intervento eroico perché deve essere un engagement potrebbe limitare giusto cose offensive come armor content sì però male non è perché alla fine in realtà direi che è male lo stesso perché se ci pensi la maggior contro la maggior parte delle fazioni contro cui questo verrebbe la pena contro cui verrebbe la pena che fosse battascioccato sono fazioni che hanno disciplina 6 praticamente ok mi ha dato meno uno wow aspetta che te lo passo 6 volte su scusa 7 volte su 12 non è se no non vale praticamente mai il costo forse contro contro Xeno principalmente che hanno discipline più basse contro la guardia forse il culto che hanno discipline a 7 di base passare da 7 a 8 cambia ma anche lì contro di loro non ci sono veri propri strategie difensivi corpo a corpo e quindi sei punto a capo non ti interessa particolarmente esatto era quello che stavo pensando non sarebbe malissimo se tu lo rendessi più probabile l'effetto del battle così come è difficile difficile che sia affidabile più che altro con un meno 2 potrebbe iniziare ad essere valutabile con un meno 3 diventerebbe forte ma quello questo è una critica che vale per tutte le stratagemmi e le abilità che funzionano su questa cosa quindi sei parlando per il caos bene detto questo passiamo al prossimo vermin cloud che è la nuvola di parassiti nella fight phase un'unità di fanteria deathguard del tuo esercito che non ha ancora combattuto questa fase fino alla fine della fase ogni volta un modello in quell'unità fa un movimento paellino di consolidate di consolidare può muoversi fino a 6 invece che fino a 3 e dire questo stratagemmi ha tantissimi utilizzi è iper elastico iper dinamico ti può permettere di fare cose davvero buffe con la fase di corpo a corpo ti permette di arrivare a chilometri in corpo a corpo se è quello che vuoi ti permette di nasconderti da certi corpo a corpo se è quello che vuoi fare è solido se niente altro da dire assolutamente la ingenuità lente come i death shroud un vero pericolo per l'avvisario si iniziano a fare sceni in cui caricano fanno pile in su unità vicine e così via mi sembra stata Gemma che su un esercito è una composizione dell'esercito in questo caso che prima vuole arrivare in corpo a corpo la sua versatilità lo rende veramente pericoloso è una cosa su cui l'avversario comunque deve fare attenzione perché non vuole mettere l'unità troppo vicina l'una alle altre non vuole permettere all'avversario di caricare uno schermo che poi sarà bypassato allegramente per arrivare su le cose che ci sono dietro può essere fastidioso in un'altra maniera diversa anche se non vuoi arrivare corpo a corpo in realtà perché ti do il che ne so il Black Marine che carica giusto al limite un veicolo ma siccome era al limite del range tocca con tre modelli gli altri sette si spostano un po' laterali per cui fai questo stratagemma dopo per andare a contatto con metà dell'unità e l'altra metà va a toccare un altro veicolo dietro e ti di colpa invece di bloccartene uno te ne blocco due soprattutto ed è un esercito con il quale la resistenza dell'unità con le quali stai facendo questa cosa molto probabilmente è abbastanza alta da permetterti di bloccare in combattimento anche unità che magari sarebbero normalmente un pochino più pericolose ma che ti puoi permettere in questo caso di bloccare senza pensieri anche perché dopo sai che è divertente per loro tocchi due veicoli i veicoli possono rimanere fermi e sparare perché se disingaggiano non sparano sì 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 bene adesso divertiti avere meno uno a B e meno uno a colpire perché hai big guns never tire e di colpo ti ritrovi a sparare almeno due con tutti i veicoli ingaggiati già chiaramente molto molto carino per esempio se io avessi questa cosa con i dark elder mi diverterei molto bene chiaramente è un effetto molto diverso se tu hai un esercito molto veloce perché questo qua è forte proprio perché è un esercito lento ma ha un utilizzo diverso con i dark elder potresti farci le porcate molto diverse anche perché magari avresti ancora più versatilità perché potresti usarlo con delle unità che normalmente comunque si muovono tanto e possono fare ancora più spazio il prossimo stratagemma è forse un pochino meno interessante però non è facile se è stata interessante di questo perché eye of the swarm l'occhio dello sciame nella tua shooting phase starchettando un'efanteria ad Edgar che non ha ancora sparato può dare pistol la vita pistola alle armi ranged dell'unità mi sembra abbastanza che si spieghi da solo chiaramente è forte su unità come i blightlords o plague marines che una volta i mini saranno là magari se ne stanno là per un po' e possono potersi sparare aumentare il loro output di offensivo non fa soltanto niente sui dash perché hanno già pistola con tutte le loro armi e si può essere utile sicuramente ma non lo vedo non penso che cambierà il giudizio di questo di questo detachment singolarmente no è una situazione che vedrà qualche utilizzo quella ma effettivamente non è proprio è proprio l'esercito che non riesce a sfruttare bene questa cosa se fosse per esempio già non infantry ma fosse un'unità death guard allora sarebbe molto interessante poter sparare andare avanti con dei mefittig blight roso come si chiamano i carretti quelli piccini si mefittig blight holders poter andare comunque caricare senza pensieri una qualche unità di fanteria o qualche carro e poi sparagli in melta senza penalità in mili sarebbe rinteressante probabilmente ma è limitato a fanteria bene il prossimo è droning horror e ho andato shooting phase c'è l'unità che non ha sparato fino a fine fase l'unità ripete tutti i tiri per uno per colpire se sotto la metà della sua agitata tutti i tiri per colpire ok allora il problema è che la death card non è perciò a tiro ha poche unità che sparano bene e quelle poche unità sono i blight e i dash card che non tirano colpire le uniche unità che tirano bene tre golette sono le unità di plug con un sacco di plasma due o tre e comunque non stagiamo un cp però non è niente esagerato ed è sempre una fantaria postalo sui veicoli ok è interessante quando il tuo carretto inizio a sparare i missili o i melta abbinando gli uno o tutto per colpire però non è così eccezionale questo secondo me magari mettendolo a un'unità che ha l'enhancement che parlavamo prima droning chorus unità di plague marine con assalto che rivolano tutto per colpire perché magari appunto hanno avanzato e si sono posizionati bene può fare dei danni insomma non è non mi sembra cioè per un cp secondo me lo spenderai abbastanza spesso se giochi play marine non so se lo spendi in serosi qualsiasi cosa forse con dei blight lords ma non è che hanno un fuoco decente alla fine i blight lords hanno i loro combi arma che possono fare male a fanteria e lì per auto-can chiaramente non fai niente sul lanciafiamme però secondo me questo è utilizzabile comunque secondo me non è utilizzabile non è quello che preferirei in questo attachment ma se stanno tipo binario a ferire sarebbe stato molto più interessante è che lei hai colpita su questo tutto è quel punto vero anche quello sì perché i blight lords sì i blight lords hanno letali sui blight launcher hanno letali sui combi bolter e basta però non vorresti forse avere letali per quanto hai questi demons quindi su quello sarebbe bello avere il il full roll di preferire e il massimo che ti puoi permettere in qualsiasi modalità con questo attachment è il roll degli uno per ferire che non è tanto goloso e sì loro conquistano i base quindi tutti i colpi non ti vanno nelle tali vai poi a preferire sperando di fisciare un po' di di ferite bene prossimo è innervating onslaught che è attacco nervante o snervante nella tappata di carica subito dopo che una unità infanteria deathguard ha completato un movimento di carica scegli un'unità nemica entro engagement range di quell'unità esclusi i mostri veicoli e poi ti rendi sei per ogni modello della tua unità che è entro engagement aggiungendo uno se il modello non è un cultista o un poxwalker per ogni cinque più l'unità nemica scelta subisce una mortale per un massimo di sei questo è il classico stratagemma base da fai qualcosa fai fino a sei mortali non penso che valga anche questo con i death shroud per via del pochi modelli immagino o comunque l'unità grosse che hai black marine black marine da corpo a corpo sono sempre loro black marine da 10 con i due personaggi due personaggi e via 12 si sono giusti in un rino quindi 12 l'engagement range non ha contatto a differenza di altri atti al 4 più e hai una granata carattica a corpo a corpo e non è malissimo no no sono mortali in più che non fanno mai schifo in realtà si con 12 dovresti riuscire a maxare in teoria il numero se sei entrato in engagement range con tutti loro che comunque è un po' difficile lo è però ogni tanto hai bisogno di quelle mortali in più c'è poco da fare magari hai lanciato una granata magari oltre la granata cioè devi fare quei danni a quel carro qualcosa che comunque i plague marine in generale è la death car ma i plague marine soffrono un pochino a danneggiare e quindi magari hai bisogno di quelle mortali in più può essere utile me lo vedo Dan Bullgreen come si chiama l'avatar ci sono bersagli per stratagemmi del genere più mortali hai sempre meglio comincia a diventare ancora più forte se cominci a staccarlo con altre cose appunto che tu a lanciare mortali a qualcosa quella cosa eventualmente muore insomma che sia una granata che sia l'abilità di Typhus che sia che sia questa carica qua può essere ci sono poche cose che sopravvivono Urien Iktan di Giovanni ma in generale non pian piano perché tira 17-4 più di fila scusa 5 più di fila passiamo all'ultimo abbiamo Mifitik invigoration da utilizzare nella fase di tiro avversaria e permette a un'unità di fanteria Deathguard e che sia entro 6 pollici da Mifitik Bloodhawler di essere ferita a uno in meno se la forza dell'attacco è più alta della resistenza dell'unità e questi effetti sono molto forti secondo me in generale non è difficile essere in range di Mifitik Bloodhawler perché comunque sono veloci le posizioni di vero o male dove vuoi tu sono resistenti ma la dietro Muretto non è vista veramente avendo in range un'unità di Deathshroud o di Bloodhawler veramente sceglierà di dire voglio proprio invece ammazzare con il mio anticaro antifinterio pesante voglio proprio ammazzare con Mifitik Bloodhawler che magari è più difficile da vedere anche perché lo posso nascondere un pochino di più di un'unità da sette Terminator quindi facile da usare probabilmente perché comunque sono modelli che giochi e l'effetto è forte l'effetto è sempre forte questo qua bene per un cp questo mi sarà mi sa che sarà uno dei stratagemmi che sarà più facile e più soprattutto va in combo con i Deathshroud con il sacerdote questo è un meno uno al ferire lui dà un meno uno ai danni e hanno stealth quindi meno uno a essere colpiti esatto e hanno stealth mamma mia e diventa una l'unico problema di tutto questo è che i Deathshroud hanno già questa regola e non meno i danni meno uno a essere feriti quindi è un meno meno due potresti dire che l'avversario ha un più nel ferirti va a compensare però uno a ferirti è raro a meno che tu non abbia uno stratagemmi in questo caso semplicemente l'avversario non usa lo stratagemmi ma tu non usare lo stratagemmi e siamo siamo a capo certo è comunque buono avere il deterrente però secondo me questo utilizzo è più raro più grande più forte più piccolina come i postwalker nell'insieme è un bel attachment non so quanto lo vedremo è un bel attachment io penso a tutti questi già la Deathcard con l'index è abbastanza fastidiosa da affrontare con tutti i malus che ti dà questo è un altro attachment che ti dà un milione di malus e dice deal with it se puoi ammazzarmi fallo ma ti ci vorrà un po' di tempo un po' di sforzo comunque anche se sono se quello che ti cercano di ammazzarmi sono 20 stupidissimi boxwalker che stanno su un obiettivo a guardarti da lontano e a sbavare la risposta è pirancia fiamme che non ti hanno colpito è l'unica risposta che posso darti ormai a sbavare